Le casette provvisorie post-sisma costruite nei comuni del Cratere sono legittime purché conformi. Lo stabilisce una sentenza della Corte Costituzionale che ha di fatto reso legittima la legge 29 del 2020, il cui articolo 20 autorizzava i comuni abruzzesi del Cratere a ricomprendere in aree edificabili i lotti interessati da strutture e manufatti temporanei realizzati a seguito degli eventi sismici, a condizione che siano conformi ad autorizzazione e comunicazioni previste dalla normativa emergenziale, un provvedimento che legittima queste casette che altrimenti sarebbero state sottoposte a demolizione. Soddisfatto il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Sant'Angelo che tanto si era battuto per questo argomento. Una bella soddisfazione perché dimostra che quando la politica vuole fare delle cose le può fare. Nel lontano 2020 avevo immaginato proposte e fatte approvare una norma che desse diciamo una speranza a quanti hanno costruito e realizzato delle case post emergenza del 2009 nel sisma che ha devastato l'intero territorio del Cratero Aquilano e della città dell'Aquila a persone che hanno scelto di vivere e restare in questa città avessero una speranza e una certezza nell'affrontare il futuro rispetto agli investimenti anche fatti. La norma fu impegnata, fu impugnata dal governo per legittimità costituzionale. Finalmente dopo due anni siamo arrivati a sentenza. Questa sentenza è dirompente perché nelle motivazioni si riconoscono le giuste pretese, le legittime pretese di chi ha costruito la casa nel rispetto delle normative emergenziali può avere l'opportunità di poterla stabilizzare. Si sancisce così un diritto quello dei proprietari a vedere stabilizzate quelle abitazioni in emergenza realizzate nel rispetto della normativa. Una questione urgente che riguarda moltissime famiglie dell'Aquilano e non solo. Non si tratta però di sanare e rendere tutto consentito ma piuttosto di stabilizzare appunto quelle casette che sono state realizzate in modo legittime a norma. La legge infatti esclude gli edifici che non presentano titolo abitativo costruite in modo difforme. Sono esclusi anche edifici nei centri storici o nei nuclei antichi o quei manufatti che ricadono in aree vincolate o sottoposte a tutela. Nessuno vuole aggirare le norme, infatti la norma regionale rispetta ed autorizza tutte le case che sono state costruite nel rispetto di tutte le autorizzazioni e di tutti i vincoli. Quindi i vincoli paesaggistri, idrogeologici, culturali debbono essere rispettati. Rispetto a questo si darà la possibilità ai comuni di poter ricevere la normativa regionale e di tracciare diciamo finalmente una rotta di chiarezza per quanto riguarda i cittadini e i proprietari di queste case.